Incarnazioni del divino amore Con l'introduzione della lingua inglese, l'attaccamento alla propria cultura è in declino. Le disparità sono in aumento e non vi è affinamento fra di noi. In assenza di raffinamento ed elevazione nella cultura, i valori umani scompariranno velocemente. Con la perdita dei valori umani, la cultura vera è persa. Ecco perché il signore Shiva ha scelto come suo luogo di nascita il nostro paese. Come è stato dichiarato qui dai Pandit, la recita del Rudram aiuta a distruggere le qualità negative. Vi è un immenso potere in esso. Ecco perché il Namakam e il Chiamakam combinati insieme creano armonia. Perché contengono le parole dei Veda. Le parole contenute nei Veda non si trovano da nessun'altra parte. Infatti tutti i testi spirituali hanno la loro origine nei Veda. E oggi i Veda vengono ignorati. Perché? Perché non c'è nessuno che ripete quando si cantano. E quindi i Veda vengono ignorati. Nei testi vedici viene contemplata la posizione e la lotta dell'uomo. Dio vi raccomanda di recitare i Veda. E tutti possono cantarli ripetutamente. Il canto dei Veda non prevede alcuna differenza di casta. Ragazzi americani, venite. Ragazzi americani, venite. Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione